se ti piace il calcio e il caffè adorerai zona caffè approfondimenti su tutto il mondo del pallone bella a tutti ragazzi eccoci qui parte una nuova serie zona caffè non so quando uscirà vorrei farla uscire una volta ogni giorno barra 2 ragazzi questa non è la nuova serie dei come si dice delle bombe di mercato ma ragazzi qua andremo a fare degli approfondimenti ragazzi sto che so che sto diventando sport italia praticamente sto mandando in fallimento no scherzo sport italia tante idee ragazzi non vi nego che mi vengono da lì ragazzi in questa serie andremo a concentrarci sul calcio estero soprattutto in questa zona ragazzi oppure bar chiamate o come volete barc zona bar chiamate un po come volete ragazzi allora partiamo subito con la notizia cucureia all'atletico cucureia sappiamo ex canteriano canteriano canterano del barcellona attualmente aghe taffe terzino sinistro balla barra esterno non si farà ragazzi l'atletico sembrava averlo cercato ma i dirigenti sia del ghetafe che il suo professionale mettono a tacere tutte queste voci e ragazzi emerson royal il terzino sinistro barra destra un nuovo ricordo del real betis che quest'anno ha fatto una super stagione ritornando dopo due anni in europa league barcellona è ufficiale ragazzi ufficiale emerson royal è un nuovo giocatore del barcellona terzino come ho detto e adesso ragazzi potrebbe veramente farsi seria situazione perché loro hanno sergi roberto che vabbè si può usare un po in tutte le zone del campo centrocampista centrale mediano terzino un po da te parti però c'è destra grazie vediamo se metterà in difficoltà non penso e penso che farà panchina emerson royal però mai dire mai quindi ragazzi è ufficiale il contro di scatto esercitato da parte del real madrid puro ragazzi vincenzi italiano vincenzi italiano sappiamo che quest'anno ha portato a una salvezza più che tranquilla lo spezia portando addirittura al quindicesimo posto ragazzi veramente la stagione super visto che tutti la davano praticamente per spacciata invece ragazzi resta l'ufficiale resta ci mette tacere le voci che lo davano già per partente perché ragazzi si è parlato molto soprattutto della lazio si è parlato del sassuolo io ragazzi ho anche sentito la la voce che lo volessero anche al verona come sostituto di unici che c'è la zona delle piaia o che è sta luce blu mette a tacere ragazzi queste voci e quindi resta al spezia ma ragazzi andremo andrei a concentrarmi sull'everton everton che chiede dopo come dopo ancelotti potrebbe arrivare un rivale storico ragazzi perché sappiamo che c'è il derby è in merceside abbastanza tranquillo della città di liverpool liverpool contro everton e ragazzi si sta parlando di gerrard che sappiamo che quest'anno ha condotto il rangers a una vittoria super a mio parere del campionato scozzese ma oltre lui ragazzi ci sono il appena esonerato e spirito santo dal volperenton che sembrava cercato anche dallo united e ralf ragnick che l'anno scorso ci ricorderemo molto bene perché era stato ragazzi accostato al milan se andasse gerrard sarebbe clamoroso ma con spirito santo per me potrebbe fare veramente bene proprio molto bene e poi ragazzi ritornando in tema germania con ragnick andiamo su vanbomel vanbomel ufficialmente il nuovo allenatore del volsburg l'ex difensore centrale non difensore centrale terzino se non sbaglio del milan ex se non sbaglio del barcellona non mi vorrei sbagliare olandese e il nuovo allenatore del volsburg esce da un esonero non mi ricordo con che squadra e il loro nuovo allenatore visto che è partito l'attuale coach che dove li ha portati ragazzi mi sembra che li ha portati in champions vero in europa sicuramente li ha portati in champions league e mi ricordavo bene di un punto sopra like line track non so parlare francoforte quindi ragazzi tanto di cappello per il volsburg che decide adesso di puntare su un tecnico giovane molto giovane c'è da dire quindi vedremo se ragazzi l'anno prossimo si confermerà quantomeno in in europa league spero per loro e sì visto che non so perché anche se sono di plastica mi stanno abbastanza simpatici e andiamo ragazzi sull'ultima notizia che ragazzi l'everton vuoi non l'everton il psg vuole un nuovo prestito perché che non so perché sembra non essere riscattato da parte del psg anche se ha fatto una super stagione e adesso ragazzi l'everton non chiude le porte assolutamente al psg per un nuovo prestito vedremo che succederà per moise ken che è veramente riduce da una super stagione anche se non ha vinto niente c'è a dire ha vinto miss a solo a coppa di francia se l'hanno vinta pure hanno perso il campionato abbastanza scandaloso e quindi ragazzi questa prima puntata di zona caffè con cui c'è l'acqua direi si conclude qua fatemi vedere il vostro supporto su questa serie di zona caffè noi ci vediamo ragazzi dopo con le bombe di mercato